al punto che si stanno tenendo gli stati generali. Mi dice in un titolo che cosa ne pensa lei degli stati generali, le piacciono? Inutili, inutili perché il governo non ha un progetto per il mezzogiorno d'Italia e quindi non ha un progetto per la proiezione mediterranea. Sarebbe bastato mettere assieme i governatori del sud e capire di quali esigenze noi abbiamo bisogno. Serve pragmatismo, serve buona volontà. I stati generali che peraltro non danno spazio al sud credo che sia una esperienza inutile. Il Presidente Conte avrebbe dovuto invitare i presidenti di regione? Sì, ha invitato una delegazione della conferenza delle regioni e la ringrazio per questa domanda perché io faccio parte della cabina di regia della conferenza delle regioni. Siamo in tre in tutta Italia. Lei ci crede che io dovrei essere agli stati generali alle 18 e non ho trovato un posto in aereo per poter partire dalla Sicilia? Quindi lei non può andare. Il primo aereo disponibile, il primo posto disponibile è alle 19.25. Arriverò tardi a Roma stasera. Questo le dà l'idea di come i collegamenti aerei in Sicilia e da parte dell'Alitalia siano assolutamente infelici, disarmante questo trattamento. Deve finire, questo andazzo deve finire. Lo dico non per chiedere l'emosine ma per chiedere un equo trattamento per una comunità isolana che si muove per necessità e ha il diritto di poterlo fare visto che la mobilità è un diritto costituzionale. Senta Presidente, da ultimo mi è molto chiaro il concetto.